Quindi abbiamo modificato le ordinanze sia quella della stagione balneare sia in particolare quella che riguardava proprio il Pedocin per poter far sì che potesse essere aperto con le stesse tutele per la salvaguardia della vita umana in mare tutto l'anno. Il popolo del Pedocin segna un altro punto a suo favore. Grazie alla modifica delle apposite ordinanze da parte della Capitaneria di Porto si amplia la possibilità di fare il bagno nello storico stabilimento comunale, tempo permettendo, anche nei mesi invernali. E' una delle novità annunciate oggi dall'assessore Rossi e dal comandante della Capitaneria Sancilio nella conferenza organizzata per illustrare in realtà soprattutto il potenziamento del servizio sia alla lanterna che ai topolini per la stagione estiva. Si è fatto quest'anno un passo avanti le cooperative con una spesa di 250 mila euro che è quella poi che costa il servizio completo Pedocin più topolini fornisce nella sostanza un'attività di controllo da parte di due bagnini al Pedocin e di 5 ai topolini e c'è poi una implementazione del servizio a terra nel periodo di luglio, agosto, di sabato e domenica quando evidentemente la frequenza è maggiore che dà maggiore sicurezza. L'investimento del comune è di circa 82 mila euro per la lanterna gestita dalla cooperativa Orizzonti di Udine e di 170 mila per i topolini dove opera lavora di Trieste e dove è stata posta particolare attenzione alla pulizia. Tornano anche i corsi di nuoto gratuiti alla lanterna per i bambini dai 3 ai 10 anni dal 18 giugno al 31 agosto. Quanto all'ampliamento della balneazione invernale, il comandante Sancilio ha spiegato che in passato trattandosi di un'area portuale non era possibile consentire attività natatori in sicurezza. Sono contento che sia andata in porto con l'assessore Rossi, abbiamo parlato per molto tempo, abbiamo modificato le impostazioni dell'ordinanza ma soprattutto c'è stata un'idea nuova quella di poter fornire un servizio migliore al cittadino in tutta sicurezza.